Ci sono ancora alcune ombre sul fronte della rioccupazione degli ex ricercatori della Intex a sollevare i dubbi alla FIOM CGL, che si dice sorpresa della notizia diffusa ieri dall'assessore regionale alle attività produttive Mauro Febo, che a Roma ha incontrato l'amministratore delegato di tale Salenia Space Donato Amoroso, il quale avrebbe confermato che attraverso la convenzione già firmata è previsto l'avvio delle attività riguardante il progetto Italgovset.com, in attesa della formalizzazione del piano multiregionale. La Tales, ha spiegato Febo, ha avviato la verifica di curricula dei 70 lavoratori ex Intex per individuare le professionalità dei ricercatori in linea con il progetto. Ma questa fase, sottolinea la segretaria provinciale della FIOM, il Vira De Sanctis, dovrebbe essere già conclusa da un pezzo e chiede all'assessore Febo un incontro urgente. Nonostante ci siano più richieste di incontro che abbiamo inoltrato all'assessore, al momento non c'è stata nessuna convocazione, quindi ci atteniamo a quello che leggiamo sulla stampa. E devo dire che con sorpresa un po' leggiamo che l'intenzione espressa dalla Tales sarebbe quella di fare un esame dei curricula dei lavoratori. Però, a dire il vero, questo è un po' sorprendente per noi, perché la Tales dispone dei curricula dei lavoratori già da molti mesi. Tant'è vero che i lavoratori hanno sostenuto vari colloqui e dei colloqui li hanno sostenuti anche direttamente con personale Tales. Quindi cosa significa che deve visionare o esaminare i curricula? Non riusciamo a capire il senso di questo impegno. Noi crediamo che sia quanto mai necessario un confronto, un incontro, in modo tale da poter mettere sul tavolo tutta la situazione, tutti gli aspetti della situazione e fare una valutazione complessiva.